Monica Maggioni Benvenuta, benvenuta Grazie Come, come, come ti posso dire direttrice? Senti, no Maggio? Maggio Come va Maggio? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene Ci sono tantissime cose di cui si può parlare con te Conflitti, nemici, territori ostili Però della Rai parliamo dopo Ok Si vedeva che era preparata Cioè è da stamattina che ci penso a questa No, da dove partiamo? Hai fatto tantissime cose Hai vissuto esperienze molto molto forti Ovviamente a me le prime che vengono in mente Anche per questo periodo sono quelle legate Legate alla guerra Tu sei stata in Iraq, sei stata in Afghanistan Sei stata con le truppe americane Sì, è una delle cose che ho fatto in questi anni Tantissimi anni fa No, ieri Sì Pensiamo poi tantissimi anni Inizia quella cosa lì No Sì, sono stata per quasi due mesi Con i militari americani Poi sono stata in Iraq un sacco di altro tempo Senza militari americani Però sono stati due mesi abbastanza impressionanti Anche perché era una guerra In realtà un po' come tutte Però particolarmente discussa dall'opinione pubblica Chi era lì? Le truppe americane che erano lì Sapevano perché cosa stavano combattendo? Le truppe americane che erano lì Ho scoperto in quei giorni che sapevano pochissimo Avevano Peraltro non capivano assolutamente niente di dove erano La larga maggioranza Perché sai Ma anche proprio geograficamente? Anche geograficamente Erano assolutamente sconvolti Molti di loro dal deserto Non avevano mai visto la sabbia Non avevano mai guidato nella sabbia Si erano trovati di colpo in questa cosa E sai Tu sei abituato a pensare che Li vedi nei film perfetti No, non è così Ci sono gli ufficiali Le forze speciali Che sono straordinari Poi la truppa Quelli con cui viaggiavo io Non avevano veramente idea Ed era abbastanza Infatti erano molto angosciati E non a caso Quando poi sono tornati indietro Dalle guerre in America Hanno avuto dei problemi enormi Per cui una delle grandi storie non raccontate Post trauma di sidrome Esattamente È proprio quella Un ritorno devastante E tu eri lì per raccontare quello che succedeva Che perimetro di movimento avevi con loro? Quanto potevi relazionarti con loro? C'erano delle regole molto strette? Era uno di quei casi In cui essere italiani Era un vantaggio pazzesco Perché non contavamo una mazza Nulla Si sono dimenticati di noi Per cui fai conto che dopo Erano tipo Tre settimane che viaggiavamo E ci infilavamo In ogni dove A un certo punto al campo Arriva una sorta di Fax Perché allora c'era ancora quella roba lì Che diceva Avete per caso notizie di due italiani? E noi nel frattempo Non venivate percipiti come una minaccia No non venivamo proprio percepiti Che era una cosa diversa Vi lasciavano proprio stare Mentre per gli americani Era tutta un'altra storia Perché venivano molto controllati Molto subiti Molto monitorati Io ho un po' di foto Che ti riguardano di quel periodo Poi magari Anzi Sicuramente saprai contestualizzarle Meglio tu Meglio tu di me Alcune riguardano Anche una certa Una certa quotidianità Che poi diventa necessaria In quelle situazioni Allora Questa 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 è Afghanistan Però non è Iraq Questa è Afghanistan I militari Erano quelli italiani E fammela vedere bene 2010 Gulistan Sei tu Sopra un elicottero Stai messaggiando Ti ricordi esattamente con chi? Sarà qualcuno a casa? Qualche Certo Qualcuno che aveva bisogno Di più notizie Esatto Come ha vissuto quel periodo La mamma? La mia famiglia L'ha vissuto malissimo Eh immagino Perché insomma Io sono stata in giro per guerre Per tanti anni E per loro è stato Molto 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 difficile Però Sapevano che era la cosa Che volevo fare Quindi andava bene Esatto Andare in quei territori È conseguenza di una specie Di vocazione O vieni Non dico estratta Ma dentro l'azienda Per me è proprio una malattia Cioè tu volevi proprio andare Io volevo proprio fare questa cosa Quando ero piccola così Perché Perché vedevo Il riportaggio di guerra Perché leggevo Ettore Mo Leggevo la Fallaci Leggevo Tiziano Terzani E dicevo Io voglio fare quella cosa Quel tipo di racconto Le altre cose nella vita Mi sono capitate Ma l'inviato è esattamente Quello che volevo fare Qui eri sempre su un elicottero Anche questo è Afghanistan Qui è quando forse Aspetta Vediamola bene Eh Vedi le rughe Guarda le rughe Quindi È verso la fine È Afghanistan Due anni fa È recente Recente Questo era Stefano Nazzi No Eh C'è un sosia di Stefano Nazzi Che stava viaggendo Viaggiamo insieme a te Eh Stavate venendo via? Era l'ultimo volo Ti ricordi quando A un certo punto Si è capito che Tutti gli internazionali Sarebbero venuti via E sarebbero tornati I talebani In Afghanistan La gente cercava di scappare E sono partiti Una serie di voli Tentando di mettere In salvo Soprattutto le persone Che avevano lavorato Con i vari contingenti Eccetera Perché erano a rischio di vita E quello lì Era l'ultimo volo da Kabul Sì Quando Quando lasci Quando lasci Quelle zone Dopo esserci stata Hai La sensazione Che ti porti a casa È È servito a qualcosa Non è servito a niente Quello per me È stata una sconfitta Che stiamo pagando Tutti quanti insieme Che pagheremo a lungo Perché il fatto Di essere stati là Per vent'anni E dire agli afghani Oh tranquilli Avete la possibilità Di vivere in un modo diverso Voi ragazze studiate Verrete curate E poi un bel giorno Sapete che cosa c'è? Che l'opinione pubblica Per esempio americana Tanto per dire Non lo regge più E quindi Noi andiamo a casa Quindi scusate Ci siamo sbagliati Notizia di Due giorni fa I talebani Hanno reintrodotto La lapidazione Per le donne adultere La lapidazione in strada Ti ricordi che all'inizio Quando si era venuti via C'era anche chi teorizzava Che c'erano i talebani moderati Ecco adesso è tornata La lapidazione E noi li abbiamo Mollati là così Poi la storia I conti Li ripresenta Prima o poi Te li ripresenta Sì C'è anche un modo Di raccontare Io mi ricordo Un'indignazione enorme Quando C'erano le immagini Delle macchine Che cercavano Di uscire Da quelle zone Eccetera eccetera Poi si spegne tutto Si spegne tutto In un niente Diventa quasi Un esercizio di stile Ma anche nei talk show Si fa sempre Uno storytelling Di quello che succede Poi credo sia anche In qualche modo indotto Perché i talk show Sono fatti per spiegare A chi non ne capisce niente Un po' Quello che sta succedendo Però si tende sempre Poi a cercare Di fare una banalizzazione Del buono contro il cattivo Si semplifica un po' Un po' Troppo C'è bisogno sempre Di dire Chi sono i buoni Chi sono i cattivi Qual è la soluzione facile Il problema Di queste cose qua È che se tu Vuoi tentare Di capirle Ci metti un po' A spiegarle E non riesci mai A dire che c'è Uno Buonissimo Buonissimissimo Lui è il migliore di tutti E quell'altro È tutto il negativo Dei metterti lì A fare tutti i distinguo Questa roba Serve tempo Serve pazienza Bisogna studiare Servono delle orecchie Che hanno voglia Anche di ascoltare Un certo tipo di discorso Assolutamente E quindi insomma Come regici Di fronte ai luoghi comuni Perché poi è vero Che la maggior parte della gente Non ha idea Di quello che sta dicendo Ma comunque lo vuol dire Malissimo Situazione classica In un taxi Sei in un taxi Non tutti Non tutti Però sei in un taxi E il tassista Inizia a fare la sua analisi Della geopolitica Mi sono ingarillata In certi liti Per esempio La mia teoria È Io do ragione A tutti qualunque cosa dicono Cioè io sono sempre d'accordo Con quello che dice A prescindere Io un giorno di questi Le prendo in un taxi Perché succederà Lo so Succederà L'ho messa via Succederà Tu invece cerchi Di spiegare Perché a un certo punto Mi parte la roba Del dire No ma lei non si rende conto Aspetti Non è così Non è come sembra Ah L'ho sentito Non ti dico dove Sì Mi dicono che l'hanno sentito Perché bisogna essere Tutti carini E per Benino E però l'hanno sentito In studi simili E dice No perché l'ha detto lui E allora E io allora inizio Cioè Poi insomma Finisce che Per fortuna Arrivo a destinazione La corsa è finita Io saluto L'indirizzo Quello giusto E via Una parola che si sente Ovviamente tantissimo In questo periodo È escalation Non vorrei darti L'impressione Di utilizzarti Come le hostess In aereo Quando c'è la turbolenza La persona a cui tutti guardano Per capire Quando è il momento Di preoccuparsi Che sensazioni hai Dopo quello che è successo ieri A Damasco Dove gli israeliani Hanno avuto la pessima idea Di accoppare Un signore Che era sostanzialmente La figura chiave Dei pazderani E tu dirai Vabbè allora Ecco no Sono persone Che hanno un potere assoluto In Iran Dopo la guida suprema Sostanzialmente Ci sono i pazderani Ieri è stato ammazzato A Damasco Una persona chiave Del sistema iraniano Mi sembra che non sia La strada Per cercare Di tranquillizzare Le cose Io sono Positiva Di natura Però in questo momento Vedo troppe tensioni Tutte insieme E troppe persone Che hanno interesse A che la tensione Assoffiare un po' Sul fuoco Quindi Allacciamo le cinture Diciamo così Cambiamo Cambiamo un po' Il discorso Perché dicevi tu Non è ovviamente L'unica cosa Che hai fatto Insomma questi racconti di guerra Tu hai seguito Le presidenziali in America E hai incontrato Obama Prima che diventasse Agli occhi di tutti Obama No È inutile che ridi Adesso dichiari Che lo sai Mi dispiace Devi dichiarare che lo sai So anche cosa ti ha chiesto Però Possiamo rifarlo Sì Dai Tu sei Obama Sì Ok Mi dici qualcosa tu In anticipo Io certo Dico Come lo hai approcciato Lui era un senatore Era 2006 Senatore dell'Illinois Fighissimo Fighissimo Sì Ti sto dando le stesse vibe In questo momento Uguale Uguale Forse mi confondo Ok Lui arriva verso di me E io dico Senatore Sono della televisione italiana Posso chiederle? Il cesso è in fondo a destra? Eh sì Te l'ha detto Obama mi ha chiesto Dove era il bagno Ma Ha provato a dirlo in italiano? Ha tentato l'italiano maccheronico? No È stato ancora più chiaro Mi ha chiesto Scusi ma dov'è il bagno? Dov'è il bagno? E io ho capito che avevo un ruolo In quel momento Sì Ho detto Avanti a destra Lo sto lasciando adesso Lo sto lasciando adesso No Dicevi ovviamente Che era fighissimo Cosa si capiva già Di quello che sarebbe diventato Come figura Guarda Non voglio dire Anche come figura pop Devo dire Nel senso Lui ha avuto un grandissimo impatto Di lui si diceva Mi ricordo perché Quel giorno ero a Nashville Tennessee E di lui si diceva Arriva questo senatore Dell'Illinois Che ha veramente È uno di quelli Che faranno strada Poi però Quando si è presentato Contro Hillary Clinton All'inizio della campagna Tutti a dire Vabbè Però un outsider così Non ce la potrà mai fare E invece è riuscito A costruire una cosa Particolarissima Un momento Di quelli Quasi irripetibili Per cui Nel giro di un anno Ha ribaltato Qualsiasi pronostico Qualsiasi cosa E ha costruito Quello che in quel momento È stato Un sogno americano Stiamo parlando del 2006? 2008 Le elezioni Tu l'hai conosciuto? Il momento Il momento Il momento De l'informazione Il bagno in fondo a destra 2006 Lui è eletto 2008 Mi sembrava Da esterno Da italiano Che guarda le presidenziali americane Come qualcosa Che ti interessano Di rimbalzo Ma non direttamente Che fossero elezioni Che avevano Probabilmente anche grazie a lui Un fascino un po' diverso Da quelli di adesso Ma sì perché dai Era una fiaba Era l'idea di dire Come in un posto Dove c'è stato l'apartheid Fino a qualche decennio prima Perché di questo si tratta In un posto Dove pensi che Sì tutto è possibile E' possibile anche avere Il primo presidente afroamericano Nella storia degli Stati Uniti E questa roba Ha dato l'idea Che in quel momento Sembrava tutto possibile E in questo chi vince? Francesco Costa Non si è voluto sbilanciare Quando è stato qua Ma che strano Stranissimo Bravo Francesco Bravo bravo Tu vuoi provare A mettere la tua fissa Ma non ci penso Neanche Neanche Anche perché è così Che si mantiene Un clean sheet Come si dice In questi casi Monica grazie mille Per essere stata con noi In bocca al lupo Per tutte le cose che fai Insomma Il tempo con te È davvero sempre troppo poco Fate un grandissimo applauso A Monica Maggioni Noi ci vediamo Tra cinque minuti Con i segreti Più inconfessabili Di tutto il nostro pubblico Non andate via Tra poco Ma stai stai Siamo qua Guarda Ne approfitto Stasera c'è 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 C'è